I numeri mi sembra parlino chiaro. Nel turno ovviamente di domenica il 15% degli elettori di centrodestra ha le amministrative che quindi all'Europea ha votato centrodestra, l'amministrativa invece ha votato centrosinistra. Quindi c'è stata un'inversione tra il voto nazionale e il voto locale. Sono stati fatti degli errori evidenti, ad iniziare il fatto di aver lasciato fuori persone che hanno lavorato per 5 anni e fatto opposizione per 5 anni in questo comune ed erano riconoscibili sul territorio. Ser Filippi ne è la dimostrazione che invece ha potuto fare campagna elettorale ed è stato il più votato dalla provincia. Quindi ci sono stati degli errori evidenti e rispetto al 2014 con un centrodestra spaccato si era preso comunque il 39%, oggi con un centrodestra unita si è preso il 33%. Questa è la dimostrazione che evidentemente sono stati fatti degli errori. Il ballottaggio è un'altra partita, è un'altra gara, quindi i giochi come si configurano adesso? Ovviamente il ballottaggio è 0-0 e palla al centro, nel senso che si riparte da 0. Non si è iniziato molto bene, ho sentito le prime interviste e sinceramente non mi sono piaciute, però siccome è tutto da costruire in due settimane bisogna capire se ci saranno proposte credibili e quindi vicine ai cittadini che io fino ad oggi non ho sentito da nessuno, quindi proposte concrete che serve alla gente in maniera quotidiana e quale sarà il progetto più credibile. L'abbiamo visto appunto tra le europee e le amministrative, il progetto più credibile e le proposte più concrete da proporre ai cittadini determineranno il futuro sindaco di Fano. Colmare il gap come si fa? Andare a intercettare qualche altro voto o ripartire proprio ex novo? Intanto l'errore che si è fatto di aver lasciato fuori me, ma anche, io lo voglio dire, il vice sindaco Cucuzza, l'ex assessore Cavalieri, l'ex consigliere Mirisola, cioè tante persone, ne potrei citare tante altre, che non hanno fatto parte di questa tornata elettorale, che secondo me vanno recuperati, ma è l'errore di fondo che ha fatto questo centro-destra che è rimasto meno credibile rispetto ad un centro-sinistra serie che invece ha cercato di coinvolgere tante parti sociali della città. Questo è stato, penso, l'errore di fondo. C'è il tempo per recuperare, ci sono due settimane, vedremo se il centro-destra avrà questa capacità.